E' sembrato quasi un commiato senza rimpianto ma anzi con soddisfazione per il risultato portato avanti l'incontro organizzato questa mattina dalla manager dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Due Ruggi d'Aragona Elvira Lenzi che ha ufficialmente convocato i 21 docenti della facoltà di medicina per siglare il contratto e ha finito per salutare in qualche modo l'azienda ospedaliera universitaria. La firma è la conclusione dell'iter di trasformazione dell'azienda in universitaria e segue come passo finale il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio secondo l'iter che la manager arrivando anche allo scontro diretto con il rettore dell'Università degli Studi di Salerno Raimondo Pasquino aveva da sempre indicato come il più giusto. Per Pasquino i contratti sono un punto di avvio e non di arrivo ma ora aspetterà proprio al rettore dire l'ultima parola sulla direzione generale. La trasformazione comporta come atto dovuto che anche l'Ateneo dica la sua sulla nomina del direttore generale e la Lenzi è sembrata già rassegnata rispetto al suo possibile addio dichiarandosi pronta a tornare a fare il primario ed esprimendo anche parole di elogio sul suo possibile successore da più indicato nel salernitano Albino Dascoli. Sì sono felice di poter vivere questo momento e condividere la soddisfazione del territorio, degli studenti, dei docenti perché così come io mi ero prefigurata e come avevo aspicato più volte cioè che ci fosse il pieno riconoscimento della facoltà di medicina all'interno dell'azienda ospedaliera quindi per la trasformazione dell'azienda ospedaliera in azienda ospedaliera universitaria. Direttore si parla di una sostituzione, lei potrebbe andare via dalla direzione generale, lei che ne sa di questo? Io ho letto i giornali questa mattina, per la verità finora non ho avuto input di questo genere, però io sono una donna delle istituzioni quindi con grande spirito di servizio sono pronta a qualsiasi tipo di cambio anche perché non dimenticate io faccio il primario ospedaliero. Non ha sentito caldoro? No, non ho sentito caldoro nel merito, sto continuando a portare avanti le innumerevoli problematiche del ruggi, dei plessi aggregati, vedrò a giorni se non ci sono novità il dottore Morlacco per avere delle indicazioni più precise in merito all'atto aziendale. Grazie. 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 Grazie.